alla fine degli anni 1860 e 1870 il canottaggio diventa uno sport popolare in america praticato da uomini e donne hickens stesso era un vogatore esperto e dipinse il soggetto più volte questa particolare versione montpravimente aveva le sue origini in una gara disputata sul fiume shakskill a filadelfia il 20 maggio 1872 tra i rematori professionisti john e bernard barnell biglin e harry colter e lewis cavitt nell'altra barca qui non rappresentata alla presenza di migliaia di spettatori la corsa di 5 miglia inizia con calter e kevit che prendono l'iniziativa ma i fratelli biglin tirano avanti e vincono facilmente grazie alla loro corsa costante composto in studio il dipinto venne preceduto da una serie di disegni preparatori e da una resa precisa della prospettiva hickens fa di tutto per catturare i riflessi della luce fuori l'acqua la stessa cura è applicata nella rappresentazione dei corpi muscolosi dei fratelli biglin eventi sportivi come il canottaggio e o la box hanno fornito a hickens la possibilità di osservare i modelli quasi nudi è stata infatti a causa della sua insistenza all'uso di modelli nudi il classe che anni dopo venne licenziato dal posto di insegnante presso la pennsylvania academy of fine art anche se forse a prima vista non è evidente la composizione finemente calibrata e alcuni dettagli rivelatori esaltano l'impatto narrativo di un momento congelato nel tempo in primo piano c'è un frammento della barca da regata dei concorrenti e barney biglin seduto a brua la scruta da sopra la spalla misurando la sua posizione suo fratello john è completamente concentrato e pronto a iniziare la prossima vogata perfettamente in sintonia l'uno con l'altro i corpi dei fratelli sono identici nella postura l'angolazione dei loro torsi si ripete nelle nuvole diagonali e nelle cime degli alberi mentre la vegetazione e la costa dividono lo spazio in fasce orizzontali se ti è piaciuto il video iscriviti al canale lascia like e condividilo con i tuoi amici ti invito anche a visitare il mio negozio un saluto e al prossimo video di arte esplorando